Ciao, sono William Bisacchi, sono l'ideatore di questo blog e questa è la pagina di richiesta di preventivo. Se sei su questa pagina probabilmente hai pensato di richiederci un preventivo e se hai pensato di chiedere un preventivo alla Bisacchi è perché probabilmente vuoi qualcosa di più della media, vuoi una consulenza tecnica approfondita, vuoi avere la certezza di parlare con degli esperti, con un'azienda seria, con delle garanzie, con un sistema di lavoro. Oppure potresti essere stanco degli artigiani che non rispettano gli appuntamenti presi, di chi dice una cosa e poi ne fai un'altra, insomma della mancanza di professionalità che purtroppo è presente come in tutti i settori. Ti descrivo brevemente che cos'è il sistema Bisacchi. Il sistema Bisacchi non rappresenta solamente un fornitore di finestre, che tra l'altro siamo anche produttori, quindi le produciamo internamente, ma racchiude un concetto, il concetto di avere una finestra, un montaggio e un controttelaio tutto all'interno di un sistema. Tutti i lavori che eseguiamo vengono progettati uno ad uno, cioè vengono personalizzati completamente, perché ogni lavoro è unico, perché diamo delle garanzie e dobbiamo essere certi del risultato. Che cosa riceverai se compilarai il form che trovi qui sotto? Prima di tutto ti ricontatterò e poi ci sentiremo con una breve telefonata. Cercherò di capire se ci sono i presupposti per lavorare insieme. Se ci saranno, allora fisseremo un incontro presso la nostra sala mostra, dove ti farò un'intervista approfondita per capire le tue esigenze e i tuoi bisogni. Dopodiché farò un'analisi dettagliata di tutto quello che è venuto fuori durante l'intervista e ti preparerò un'offerta chiara e dettagliata, senza sorprese. E se disiderai che Bisacchi è l'azienda giusta per il tuo tipo di lavoro, allora inizieremo a lavorare insieme. Avrai diritto alla nostra triplice garanzia, che ti descriverò più avanti, faremo un accurato sopralluogo tecnico a casa tua, faremo tutti i disegni esecutivi che potremo condividere con il tuo progettista e avrai la nostra assistenza per sempre. Ora però voglio anche dirti che cosa non facciamo. Non facciamo preventivo online, perché preventivo online non serve a niente, serve solamente dare un numero ma non risolve dei problemi e delle necessità. Non abbiamo interessi per un materiale piuttosto che un altro, perché lavoriamo dal PVC fino all'acciaio inox e tutto quello che c'è nel mezzo. Quindi se trovo una soluzione che funziona nel tuo caso, ti farò la mia proposta. Se non la trovo non te la farò, ma se te la farò, la farò con il prodotto che ritengo migliore nel tuo caso specifico. Quindi non scendiamo a compromessi di nessun tipo. Se si può fare bene, se non si può fare, diciamo anche di no. Non abbiamo i prodotti economici cosiddetti da palazionari, perché chi cerca quel tipo di prodotto non ha bisogno di durata, non ha bisogno di garanzie, di assistenza, di tutto quello che invece noi vediamo, non è il nostro mercato. Ma chi ti garantisce che tutto quello che dico è vero? Beh, se sei qui nella zona puoi alzare il telefono o andare in qualsiasi locale, bar o attività e ci conoscono tutti, perché siamo presenti da oltre 45 anni con la stessa partita IVA. Io ho da 30 anni, ma mio babbo è da 45. Se invece non sei della zona, potresti guardare le recensioni su Facebook. C'è un nome e cognome, potrebbe esserci un tuo amico o l'amico del tuo amico. Gli puoi mandare un messaggio e chiedere delle referenze. Consiglio molto Facebook, perché Facebook c'è appunto nome e cognome. Non è come TripAdvisor, che ormai sono tutte finte con la recensione. Quale garanzia avrai se ti affidi a noi? Ti avevo accennato poco fa che ti avrei parlato della nostra triplice garanzia. La triplice garanzia te la descriverò nel dettaglio quando ci vedremo, ma in sostanza è, primo, i costi certi. Quindi il nostro preventivo sarà sempre definitivo, non ci sarà nessun'altra sorpresa. La seconda garanzia è un controllo gratuito dentro 24 mesi, quindi a lavoro finito, pagato, io vengo a vedere che sia ancora tutto a posto come il primo giorno che te l'abbiamo montato. E la terza garanzia è una garanzia di 10 anni sul lavoro di posa in opera. Sul nostro sistema di posa ti garantiamo per 10 anni che non entra acqua, infiltrazioni, non entra nulla. Se dovesse accadere, ritorniamo gratuitamente a mettere a posto tutto come doveva essere. Ma chi è William Bisacchi? Chi è la Bisacchi? La Bisacchi è un'azienda che ha 45 anni di storia, un'azienda che ha servito 3.000 clienti, ha installato più di 35.000 finestre. William Bisacchi è il creatore del sistema Bisacchi e da 30 anni si occupa di infissi. Ho studiato a Bozzaro da Casa Clima, che è il riferimento per l'efficienza energetica. Scrivo per delle riviste del settore come Showroom, Edilizia e Serramenti. Sono socio dell'Unione Nazionale Costruttore di Serramenti, Unicmi. e tantissime, tantissime altre cose. In sostanza sono cresciuto a pane e finestra, quando ero un ragazzino. Non faccio solo teoria, perché sono nato appunto pane e finestra in officina, quindi ho costruito le finestre da zero e sono andato a montarle in cantiere. Ancora oggi, se volessi, sarei in grado di costruire una finestra e di andarla a posare. Magari ci metteremo più di tempo, perché ormai lo faccio poco, però sono incapace a farlo. E questa fa tutta la differenza del mondo. Cosa mi rende diverso da tutti gli altri? Prima di tutto le competenze tecniche e professionali. La storia, quindi la capacità di costruire una finestra e di montarla. Non essere un venditore, ma essere un tecnico e un consulente. Tutti ti daranno un prezzo, ma pochi ti daranno delle soluzioni, dei consigli e della consulenza. Se pensi che la Bisacchi possa fare a caso tuo, compila la form che trovi qui sotto e verrai contattato entro 24 ore. Ciao!